Tanti auguri a me Ma che sta facendo quello? Tanti auguri a me Il compleanno, Fabino! Ma che è te? Non abbiamo neanche il regalo! Non siamo mai senza regalo! Vai a prendere qualcosa di Pokémon, ve lo usci? Penso io! Ma prima iscriviti per il compleanno di Kevin! Sbrigati, Pino! Missione computer! Che hai trovato? Fammi vedere! Guarda che bello, guarda! E' teff! Ci stanno le sfere, stai calmo, stai! Ma che roba è? Oh, sento il rumore, sono ripiene! Ripiene? Ma che so, bignè! Ma poi il ripiene dai che... Che sto aprendo? Guarda qua, va! Cos'è sto mostro? Uno Spiro! Ma se c'è il rossetto! Sarà femmina, che ti devo dire! Ma quando mai? Questo come ti pare? Non ci sto credendo! E' Diogo, no? La sirenetta, uguale! Dai Sway, questo si capisce! A voglia! E' Pifu, non lo vedi? Si, con la crema solare però! Sarà Shine! Ma sei bianco, che pare una mummia! Questo è l'ultimo modello! E quindi? Se la ti riesce il Pokémon! Ma sei sicuro? E mo ti faccio vedere, bello mio! Sei serio? Vai! Ma che sei impazzito? Che ti avevo detto?